200 giovani provenienti dalla diocesi di Verona hanno incontrato questa mattina nell'antica chiesa di Santa Restituta il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli. Accompagnati da alcuni sacerdoti, i ragazzi appartenenti ai vari gruppi della pastorale giovanile della chiesa scaligera si sono confrontati con il cardinale Sepe, ponendogli domande inerenti all'impegno dei cristiani nella realtà quotidiana, a partire dalla compromissione in quelle periferie esistenziali e materiali tanto auspicato da Papa Francesco. L'arcivescovo, legato ai territori veneto-lombardi, tra cui quelli della diocesi, per le numerose escursioni svolte per la sua passione per la montagna, ha ricordato la sua esperienza durante la costruzione della capitale Brasilia quando era segretario dell'Annunziatura Apostolica in Brasile e l'importanza evangelica nell'impegno nei confronti delle periferie. Tra i accompagnatori dei giovani, Don Alessandro Turrina, incaricato per la pastorale giovanile diocesana della chiesa veronese, che ha spiegato le iniziative intraprese. Facciamo questa esperienza di viaggio che abbiamo proposto ai nostri adolescenti e giovani, siamo in 220 del vicariato del lago Bresciano perché la nostra diocesi è anche nel lago, in una parte nel Bresciano e abbiamo chiesto al cardinale di parlare ai giovani, siccome il tema della nostra uscita è siamo nati liberi, sulla scelta dei giovani riguardo alla fede, riguardo alla loro libertà e a Cristo che rende liberi tutti. Ogni anno noi facciamo questa esperienza e siamo andati in giro per le varie città europee, quest'anno abbiamo scelto di rimanere in Italia un po' per i fatti del terrorismo, della paura e abbiamo individuato Napoli come meta che avrebbe potuto piacere attirare i ragazzi e visitiamo un po' tutto quello che c'è qui da vedere. È importante sentirsi innanzitutto appartenenti ad un'unica chiesa ed è bello portare anche a collaborare e sentire le varie esperienze e testimonianze delle varie diocesi. Noi oltre al cardinale oggi incontreremo domani anche padre Pasquale incoronato alla locanda di Emmaus, quindi sentire come anche qui i giovani vivono la fede e come la pastorale giovanile si interfaccia con loro e secondo noi è una cosa bella e importante.